È stata presentata oggi Musicamera, un'associazione recentissimamente costituita in Venezia allo scopo di promuovere e diffondere la musica da camera in città. Musicamera è nata dal ritrovarsi di amici interessati a questo tipo di musica che ha fatto una proposta al sovrintendente di Fenice e Fenice ha ben accettato questo tipo di programma. I cardini dell'azione di Musicamera saranno una particolare attenzione ai giovani, specie ai giovani delle istituzioni culturali cittadine a partire dal conservatorio, dalle scuole e dagli atenei. Il secondo punto fisso sarà l'attenzione alla città, attenzione che finora non è stata data in maniera sufficiente e il terzo punto fisso sarà la particolare attenzione ai costi e cercheremo di fare in modo di essere il più possibile autosufficienti approfittando del fatto che i concerti saranno in Fenice e quindi questo già da solo può richiamare un pubblico più vasto del pubblico cittadino. E naturalmente la stretta adesione, aderenza fra i programmi e poi i costi finali della stagione cameristica. Abbiamo 14 concerti al Teatro della Fenice, 12 alle Salle Apolline e 2 in Sala Grande. Saranno degli eventi di grandissimo livello. Abbiamo cercato di produrre un cartellone di primissima grandezza con artisti seppur giovani ma di grande talento e già in carriera. Avremo dal giovane vincitore Luca Skrupinski, vincitore del concorso di San Marino, alla grande star Yuja Wang che arriverà da noi il 3 aprile, passando dalle formazioni cameristiche classiche, dal duo al quartetto. Devo dire che siamo molto orgogliosi di aver confezionato una stagione in così poco tempo e aspettiamo il pubblico numerosissimo e non sarà deluso della nostra proposta.